Liza Minelli, New York, New York, non c'è canzone migliore per entrare in quel di Broadway oppure nei quelli dei teatri milanesi, grazie a Tamara Valleo, buongiorno Tamara. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Good Morning Milano. E allora da New York a New York a Milano, Milano, perché questa è una settimana, diciamo, non è ancora, appunto abbiamo già raccontato che le stagioni inizieranno a metà ottobre nei teatri italiani, ma Milano è sempre molto, c'è grande fermento perché iniziamo subito così, diamo subito delle informazioni. Sentiamo dove possiamo andare, vai. Questa settimana c'è la settima edizione del Festival Internazionale Tendenza Clown al Teatro Franco Parenti del Circuito Claps. Il Circuito Claps si occupa di far conoscere in Italia appunto il mondo circense, che è un mondo molto diverso da quello che noi solitamente conosciamo, ma in realtà in questi anni abbiamo capito che il mondo circense è un mondo teatrale fatto di una narrazione che affonda nelle radici del mondo circense e appunto Circuito Claps si impegna a portare in Italia degli artisti internazionali di grandissima fama, proprio per farci conoscere tutte le declinazioni del mondo circense e il festival durerà fino a sabato 21 e ci sono artisti e artiste appunto della scena internazionale della canoneria, da Peter Shabb a Leandre a Gardiatter, trovate tutte le informazioni sul sito di Circuito Claps, www.claps.lombardia.it, quindi trovate tutte le informazioni e tutte le modalità per poter partecipare al festival, ci sono veramente tantissime attività anche per i bambini e quindi c'è la possibilità di entrare nel mondo circense, però veramente profondamente, io ho visto negli anni precedenti molti spettacoli, ci sono appunto spettacoli addirittura che toccano il tema della morte per esempio, attraverso appunto la tradizione circense e devo dire che sono spettacoli che ci portano veramente in un altro linguaggio e che ci permettono di scoprire nuove storie attraverso un linguaggio a cui noi siamo legati tradizionalmente, diciamo così, con delle immagini, ma che invece è molto più ampio e molto più complesso il mondo circense, quindi questo festival ce lo fa scoprire. Al Parenti questo dicevi giusto? Al Franco Parenti, quindi siamo in Porta Romana. Porta Romana. Allora invece poi vi voglio segnalare uno spettacolo di Livia Grossi, Livia Grossi una giornalista del Corriere della Sera che si occupa della presentazione dei vari spettacoli o eventi teatrali a Milano, quindi vi consiglio di seguirla, è una penna molto attenta e molto approfondita, ma quest'estate io addirittura sono andata a vedere un festival che lei fa a Framura, nelle Cinque Terre, un festival molto bello, e lei si occupa però, protagonista di alcuni, diciamo così, spettacoli che però sono delle interviste spettacolo e in questo caso il 23 settembre in via Fabio Massimo 19 al Centro Internazionale, adesso ve lo dico subito, perché se no me lo sono segnato perché non lo conoscevo come luogo, al Centro Internazionale di Quartiere, che è in zona Corvetto. Ah, il Cic, il Cic, sì sì sì. Sì, esatto, io non lo conoscevo. Un bel posto, davvero un bel posto dove farò davvero tantissime cose, quindi bravo, grazie Tamar che ci porti sempre questi posti interessanti. Anche io scopro con voi. Livia Grossi porta questo spettacolo che si chiama Italia Senegal, emigrazione al contrario, in Sala Cascina Casottello. Il giornale è parlato, informazione in scena, appunto lei ha questo format, ha parlato del Burkina Faso e in questo caso invece parla del Senegal. Giornalismo, fotografia, video e musica dal vivo. Il testo, la voce di Livia Grossi, con le foto e i video di Emiliano Boga, musica in scena di Andrea Labanca. Quindi lei si fa accompagnare da musicista e racconta le esperienze sia di chi dal Senegal è arrivato in Italia, sia chi in Italia si trova a relazionarsi con il mondo del Senegal. Quindi in qualche modo cerca di ribaltare anche il punto di vista, di darci uno sguardo che non sia soltanto unilaterale ma bionivoco. Quindi in qualche modo cerca un dialogo attraverso la narrazione. Ed è appunto uno spettacolo che si basa su una attenta analisi giornalistica, che però cerca di andare al di là dei luoghi comuni, al di là di quello che già conosciamo attraverso le narrazioni che ci arrivano. E proprio per andare oltre quello che vediamo. Lei ha proprio questa missione a livello teatrale, di andare, lei è una giornalista, quindi sa come raccogliere i dati, sa come entrare dentro l'informazione, ma c'è anche il passaggio successivo, cioè come questa informazione possa arrivare attraverso una narrazione al pubblico e quindi poi da questo iniziare un nuovo viaggio. E quindi secondo me è un'occasione interessante per poter entrare dentro questo viaggio. Livia Grossi, Italia Senegale, emigrazione al contrario, è voluto dal teatro Menotti, che appunto fa questi spettacoli in questa fascia di settembre pre-inizio stagione. Prestagionale. Sì, diciamo così, pre-stagionale. La pre-season, come dicono gli americani, la pre-season. E appunto si svolge in via Fabio Massimo 19, trovate tutte le informazioni sul sito del teatro Menotti e la zona è zona Corbetto, quindi in bicicletta na gialla. Perfetto. Poi... L'altro appuntamento dove ci porti? Allora, no, in questo caso vi consiglio guardare la stagione del teatro Oscar. Il teatro Oscar si trova in via Lattanzio, quindi zona Lodi, diciamo così, piazza Le Lodi, da quella parte là, quindi metropolitana gialla. Ed è una... Sono tanti, stavo pensando, sono tanti teatri da quella parte lì però. Adesso, oggi tre, praticamente tutti da quella zona lì praticamente. Però ce ne sono veramente tanti da quella parte lì e il teatro Oscar è molto interessante infatti. Molto interessante, hanno, diciamo così, si è stata presentata la stagione con i tre direttori artistici che sono Giacomo Poretti, Luca Doninelli e Gabriele Allevi, che sono tre personalità che arrivano da tre mondi molto diversi, che sono quelli della narrazione, il mondo del museo e, chiaramente, Giacomo Poretti, lo conosciamo tutti, dal mondo artistico. e si sono messi insieme qualche anno fa per dirigere il teatro Oscar. E la loro, in qualche modo, passami il termine in missione, è quella di mettere al centro l'umano. Cioè, tutte le loro storie, sono storie che ruotano intorno alla narrazione dell'umano, che può avere, appunto, mille sfaccettature, no? Che può essere molto doloroso, ma può essere anche molto divertente. e cercano storie che possano scandagliare l'animo umano. Però, mettendo sempre, diciamo così, dando attenzione anche all'unicità della storia di ogni essere umano, perché quell'unicità ci porta ad essere una moltitudine all'interno di un'unicità. Quindi, tante voci, tante storie, per poi arrivare ad una grande, che è poi il tema della stagione che si aprirà tra poco, il vizio della speranza. Tutte queste storie alimentano quella speranza che, in qualche modo, è un po' affievolita, e che, invece, il teatro, attraverso le sue storie, può, in qualche modo, alimentare e portarci lo sguardo al di là di quello che, in qualche modo, vediamo e che, a volte, può sparaggiarci. Vi dico subito che la stagione parte il primo, il due e il tre ottobre con un evento che, secondo i rettori artisti, potrebbe diventare un evento che si ripete, quindi proprio un, diciamo così, un punto di partenza per le loro stagioni, prendersi a cuore. Una serie di comici e comiche sono state chiamate per queste tre serate. Trovate tutte le informazioni sul sito del teatro Oscar, www.oscardesidera.it e trovate tutte le informazioni per, appunto, poter accedere a queste tre serate che sono legate anche al centro monzino, perché, appunto, il cuore è al centro, no? Il cuore pulsante è al centro di queste narrazioni e questi comici e queste comiche devono parlare del tema prendersi cura di sé. E prendersi cura di sé significa anche prendersi cura degli altri, di ciò che ci circonda. E scopriremo in queste tre serate, il primo, il due e il tre ottobre, quali saranno i modi per potersi prendere cura di sé e quindi anche degli altri, attraverso tantissimi nomi che troverete, appunto, in cartellone e a cui potete accedere la serata, appunto, attraverso anche questo connubio con il centro monzino. Poi la stagione è veramente ricchissima, io vi consiglio di guardarla, perché ci sono tantissimi nomi importanti a partire dal 7 ottobre con Giulia Lazzarini, che è imperdibile, perché è un'attrice con una storia incredibile e poi ci sono veramente tantissimi nomi, ma tantissime storie. C'è Melania Giglio che porta Mi Winehouse, c'è la compagnia Capotrave con Le Volpi, c'è Giacomo Poretti che porta alcuni suoi lavori, uno in particolare sul tema del lavoro e quindi un'attenzione e una cura nei confronti di un tema molto delicato in questo momento. Davvero ce n'è per ogni gusto e secondo me il teatro Oscar va tenuto in grande considerazione per poter accedere al mondo del teatro e farlo diventare un'abitudine, come sempre diciamo. Come ci auspichiamo ogni volta il giovedì qui con te Tamara, quindi appunto ricolliamo al teatro Oscar. Tutta la stagione, date un'occhiata alla stagione, insomma questo è il consiglio di Tamara, perché sicuramente troverete qualcosa che può andare bene per le vostre corde e magari appunto... forse scoprire anche qualcosa che vi potrebbe interessare, vi potrebbe incuriosire. I direttori artistici si sono molto impegnati per una stagione che potesse veramente toccare corde molto diverse, narrazioni molto diverse, perché l'umanità è molteplice. L'umanità è varia e speriamo non avariata, come diceva qualcuno, e invece sicuramente è vario, è sempre interessante gli interventi di Tamara, che fa qui appunto con noi a Cristal Radio, ma che se volete approfondire e seguire potete trovare dove Tamara? Teatro Mania il venerdì alle 16.30 su Milanao, canale 191 del Digitale, o il lunedì alle 23.30 su Antennateca, canale 11. Noi non c'eravamo messi d'accordo sul scaletta musicale e tutto, tu prima parlavi del prendersi cura di se stessi, giusto? Ecco, e allora pensa, era già qui in scaletta musicale, grazie a Beatrice e all'Ufficio Programmazione, Franco Battiato, con la cura. Grazie mille Tamara! A presto, ciao, 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 e andiamo con la musica, Franco Battiato, la cura!